Sono due i casi in salento di positività al covid tra il personale sanitario già vaccinato con entrambe le dosi. Si tratta di due medici operativi, il primo nel reparto di pediatria dell'ospedale di Lecce e il secondo di Otorino a Gallipoli. Anche se si è vaccinati, i dati dimostrano sempre più chiaramente che il vaccino garantisce una buona tutela, protegge ed evita di sviluppare la malattia. Dunque è sempre possibile risultare positivi anche se vaccinati, ma è assai improbabile che l'infezione crei problemi. La carica virale inoltre tende a scemare molto più velocemente. Il direttore della ASL di Lecce Rodolfo Rollo precisa che i bambini ricoverati in pediatria e quelli dimessi nei giorni scorsi da reparto sono risultati tutti negativi al primo giro di tamponi. La guardia resterà alta e si procederà con un nuovo controllo ma al momento non ci sono altri casi di positività. I piccoli pazienti visitati dallo specialista sono finiti in quarantena. Il medico è in buone condizioni, non ha sviluppato sintomi importanti. La direzione ha provveduto per precauzione a bloccare i ricoveri nel reparto, mentre il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL sta ricostruendo la catena dei contatti.